Mi chiamo Luigi, ho 59 anni e ho messo la protesi al pene. Mi chiamo Roberto, ho 62 anni e ho messo una protesi al pene. Sono Raffaele, ho 72 anni e ho messo una protesi al pene. Mi chiamo Mario, ho messo una protesi al pene. Mi chiamo Roberto Ardito e ho fatto l'intervento di protesi peniera. Mi chiamo Massimo, ho 52 anni e ho messo una protesi al pene. Mi chiamo Antonio, ho 56 anni e ho messo una protesi al pene. Mi chiamo Enrico, ho 63 anni, ho messo la protesi al pene. Mi chiamo Davide, ho 27 anni e ho messo una protesi al pene. Mi chiamo Renato, ho 54 anni e ho messo una protesi al pene. Mi chiamo Giuseppe, ho 55 anni e ho messo una protesi di peniera. Mi chiamo Francesco e ho messo una protesi al pene. Mi chiamo Manauro, ho 66 anni e ho messo una protesi al pene. Mi chiamo Luca e ho messo una protesi al pene. Io mi chiamo Juan Lazzaro e faccio la protesi al pene. Mi chiamo Gabriele Antonini, ho 47 anni e impianto protesi al pene.